Stiamo completando il lavoro sul PDL 111, una legge pro impresa, pro lavoro, cioè in un momento difficile per le imprese deve uscire una nuova legge che possa dare impulso a semplificare realmente le procedure per autorizzare le nuove aziende, ma anche le procedure per l'attività di controllo. Pilastri importanti contenuti in questa legge per le imprese, in questa legge per il lavoro, non da meno sicuramente il fatto di arrivare alla comunicazione regionale al posto di una serie di burocrazia, quindi l'imprenditore autocertifica di essere in possesso di tutti i requisiti per avviare un'attività e sulla fiducia del rapporto regione-impresa con una semplice comunicazione unica regione Lombardia, l'imprenditore può avviare finalmente un'impresa in regione. Altrettanto importante è il fatto che tutta la documentazione, una volta che l'imprenditore, l'azienda l'ha prodotta, viene messa nella cartella informatica di impresa della singola azienda e tutti gli enti ispettivi di vigilanza possono fare il controllo, o meglio devono fare il controllo senza recare disturbo e perdere di tempo all'impresa, all'imprenditore e ai lavoratori, ma con un controllo telematico. Questi sono alcuni dei punti di forza contenuti nel progetto di legge che a giorni chiuderemo in Commissione Quarta e che approderà in aula nei primi dieci giorni di febbraio. Un risultato importante che vogliamo mettere in mano agli imprenditori lombardi, ma anche a quegli imprenditori che decidono, grazie a questa voglia di osare, questa voglia di accogliere nuove energie imprenditoriali, altri imprenditori dall'esterno.